ben tornati su gong il podcast di round two scusateci se nell'ultima parte della scorsa settimana non abbiamo pubblicato ma eravamo impegnati l'avevamo annunciato eravamo impegnati in una maratona mortale che ci ha dato però tante soddisfazioni fra l'altro se vi va andate sul canale youtube per recuperare gli interventi soprattutto quelli della mattinata insomma perché abbiamo avuto degli ospiti veramente speciali che hanno parlato di tanti argomenti e l'hanno fatto con una consapevolezza della materia veramente eccezionale e speriamo insomma che che possiate trovare in questi contenuti possiate riconoscere qualcosa di prezioso ma adesso è arrivato il momento invece di tornare a parlare di attualità videoludica e non possiamo non iniziare questa puntata visto che non l'avevamo fatto la scorsa settimana con diablo diablo 4 perché si sono conclusi i due weekend di beta il primo era dedicato solo a chi aveva preordinato il titolo il secondo invece era un weekend di open beta quindi disponibile per tutti i giocatori abbiamo giocato in entrambe le occasioni abbiamo provato vari personaggi e ci siamo trovati di fronte ad un prodotto che ha saputo colpire nel segno assolutamente sì è diventato nell'arco di un paio di weekend il fenomeno che si preannunciava devo anche ammettere subito una cosa facendo i complimenti ad activision blizzard ovvero che durante gli ultimi due giorni quando c'è stata l'open beta davvero accessibile a chiunque loro avevano preventivato delle possibilità di gestione un po complessa di file particolarmente lunghe e laboriose per entrare e giocare e anche la non tanto remota eventualità magari di essere chiccati da una partita in corso proprio perché comunque tutto questo era anche un grande stress test oltre che un'evidente operazione di marketing devo dire che ha funzionato in maniera eccellente sia in un senso che nell'altro cioè durante soprattutto questi ultimi due giorni si ci si aspettava una difficoltà di accesso e di proprio gestione delle partite che in realtà non c'è stata e secondo me questo è un grande merito che gli va riconosciuto sì forse c'è stato qualche problemino in più paradossalmente nel weekend precedente di beta chiusa però devo ammettere che rispetto insomma a situazioni molto complesse che in passato hanno interessato anche il gioco stesso cioè la serie stessa immagino cioè ricordo il lancio di diablo 3 che è stato veramente tormentato devo ammettere che insomma tutto sommato il range di problemi era abbastanza contenuto gestibile anzi a parte qualche coda un po lunghetta nel venerdì poi gli accessi erano sono stati facili la stabilità sempre garantita quindi per me ottimo lavoro anche su questo fronte secondo me è eccellente anche se consideri soprattutto il fatto che comunque si parlasse di un gioco che arriva su più piattaforme contemporaneamente che ha presentato davvero cioè una tranquillità nell'affrontare questo open beta davvero invidiabile e assolutamente mai scontata e poi venendo al prodotto ecco secondo me finalmente blizzard dopo qualche passo falso compiuto sia il lancio di diablo 3 che poi è stato un prodotto che piano piano nel corso degli anni ha trovato la sua strada ma che è rimasto abbastanza divisivo per tutta la community e poi soprattutto con diablo immortal che insomma è stato un titolo invece opportunamente contestato dal pubblico perché ossessivamente concentrato sulle microtransazioni ecco secondo me quello che si intravede di diablo 4 è diciamo il profilo di un prodotto molto più efficace da tutti i punti di vista artistico stilistico estetico e al netto di qualche problema di bilanciamento anche ludico mi permetto solo di aggiungere all'interno di questi titoli che hai citato perché secondo me è giusto farlo anche overwatch 2 è sì sì che è un gioco loro che è arrivato e è arrivato in una maniera molto poco convinta e poco convincente e mi verrebbe quasi da dire che è arrivato e se n'è già andato in maniera abbastanza scandalosa qui in effetti sembra esserci tutt'altra attitudine ma soprattutto anche tutt'altra capacità a fronte di quelle di quei meriti che hai giustamente enunciato tu poco fa di aver innescato proprio una discussione in generale sia tra i fan storici della saga che sono tantissimi che scottati dall'esperienza col 3 forse completamente disinteressati a immortal qui si stanno riattivando in una maniera che mi sembra comunque come minimo curiosa e poi l'elemento forse più a fuoco di questo diablo 4 è il modo in cui si sta rivolgendo a un pubblico nuovo cioè tutti quelli che magari la serie l'avevano sentita solo nominare erano consapevoli di quanto comunque abbia fatto la storia mi sembra che si stiano ritrovando ad essere genuinamente intrigati dall'offerta questo doppio weekend sicuramente è servito anche per dare effettivamente la possibilità di toccare con mano di che cosa si parli e mi sembra di avvertire anche solo dai commenti nel nostro chat sui social eccetera che le persone ci siano rimaste molto molto colpite sì secondo me secondo me blizzard ha capito di avere questa diciamo duplice user base potenziale perché ovviamente insomma diablo resta un hack and slash ai miei tempi si chiamavano così molto molto focalizzato sul senso di progressione sulla matematica che sta sotto al gdr anche diciamocelo molto hardcore cioè il pubblico vero che rimane è super 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 affezionato però per esempio anche nel fatto che abbiano voluto dare spessore alla progressione narrativa mettendoci un po di cutscene con dei tagli di regia particolari secondo me testimoni anche la volontà di aprirsi a una nuova fascia di pubblico magari quella fascia di pubblico che si fa l'avventura una volta sola e poi non resta a farsi tutti quei contenuti in game ad alzare il livello del mondo a fare i varchi maggiori che sicuramente torneranno comunque quelle che saranno poi le attività appunto dedicate agli hardcore gamer lo vive come un videogioco più canonico e meno come un'esperienza di quelle continuative che ti porti avanti per mese se non addirittura per anni bravo e secondo me però è anche giusto inquadrarlo in questo modo cioè dare la possibilità ad un pubblico probabilmente anche molto molto vasto che si fa giustamente affascinare da un estetica un'idea un immaginario molto riconoscibile la cazzina iniziale in questo senso è potentissima ma come dicevi tu anche le varie scene di intermezzo sono comunque utili a delineare un quadro oscuro ma molto molto accattivante beh parlare a loro sicuramente può pagare e come? può pagare e così come paga fra l'altro in generale l'impegno tecnico e produttivo che ci porta di fronte veramente un titolo sontuoso dal punto di vista artistico estetico e grafico veramente nonostante la visuale isometrica che non è mai la più facile insomma da utilizzare per veicolare appunto questa sensazione di densità complessità poligonale quantità di dettagli diablo 4 ce la fa alla grande perché riesce comunque con questo rendering davvero impressionante a trasmettere una sensazione di meraviglia tecnologica che un po' forse il genere di riferimento aveva perduto invece adesso sembra veramente di trovarsi di fronte a qualcosa di poderosamente next gen a livello anche visivo sai cos'è Frank? è tutto estremamente solido cioè è un'impressione di un mondo che è lì davanti ai tuoi occhi che con l'illuminazione incredibile un livello di dettaglio impressionante ottimi effetti e proprio in generale un colpo d'occhio meraviglioso si disvela e ti cattura tra l'altro ricordiamo che una delle anche novità che si erano viste le cavalcature nei trailer non sono ancora state sperimentate quindi secondo me c'è ancora per fortuna margine anche per sorprendersi di fronte a un gioco che già comunque così anche nei primissimi momenti della beta l'inizio con la tempesta di neve il primissimo dungeon eccetera eccetera riusciva comunque a catturarti e tra l'altro io non so se l'hai provato anche su console tu ma io ho giocato e io questo fine settimana apposta ho voluto mettere da parte i nostri pc ninja di nzxt l'ho voluto scaricare apposta su playstation anche per vedere com'era l'esperienza solo controller eccetera e ti dico che su ps5 fa praticamente la stessa scena ed è veramente un gran 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 bel giudio poi insomma a livello strutturale il gioco resta quello che raccontavamo prima quindi insomma ci sono delle zone un pochino più aperte in cui si possono trovare dei micro dungeon oppure insomma delle zone un pochino più complesse dei dungeon che si chiamano spedizioni che sono un po' più strutturati è ovviamente tutto focalizzato al reperimento di loot progressivamente più potente per veicolare appunto questa forte sensazione di progressione e questo senso di crescita dei propri personaggi fra l'altro però io ho trovato anche rispetto insomma per esempio al terzo capitolo una maggiore attenzione nella definizione degli skill tree e anche nella caratterizzazione delle classi stesse cioè le classi si giocano proprio in maniera un po' differente hanno delle meccaniche distintive gli skill tree non sono soverchianti quindi le abilità che si possono scegliere non sono tantissime e questo permette secondo me anche di polarizzare in maniera un pochino più efficace la propria build ogni classe ha tre specializzazioni sostanzialmente che quindi permettono anche di personalizzare ulteriormente insomma l'approccio agli scontri tra l'altro abbiamo visto già fra nell'open beta che il respect è anche molto incentivato quindi non devi preoccuparti troppo di oddio questa scelta andrà a polarizzare le prossime 20 ore del mio personaggio assolutamente no mi permetto di aggiungere un paio di cose così sparse grande applauso secondo me per un character editor che è capace di creare dei personaggi meravigliosi tutti fighissimi tutti gente che potrei frequentare tra l'altro ma anche mi permetto di dire un po' forse limitato nel senso che l'output è inevitabilmente bellissimo ma c'è poca personalizzazione effettiva basti pensare anche per esempio alle tipologie proprio corporee di personaggi non si può fare il barbaro smilzo esatto oppure il barbaro magari corpulento ma perché è grasso cioè perché è grosso no è solo muscolosissimo o così quindi diciamo alti e bassi però gli alti sono veramente altissimi sai mi ricorda questo un po' Hogwarts Legacy bravo 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 cioè non avevi tutta questa libertà e l'obiettivo era quello ovviamente di farti creare dei personaggi che poi stessero bene all'interno di quel contesto assolutamente sì è vero è molto affine con risultati secondo me ancora più belli sì sì decisamente però è vero l'attitudine è proprio la stessa piacevolmente vari comunque le varie le tipologie di classi che stavi descrivendo tu con forse il necromante particolarmente divertente ma anche abbastanza rottino per quello che si è visto nello scorso weekend e un'aggiunta sola per tutti quelli che magari ci ascoltano sono curiosi di Diablo ma non hanno ancora avuto modo di provarlo secondo me è il gioco perfetto questo quarto capitolo per partire è inutile andare a recuperare quelli vecchi tanto oramai manca poco ricordiamo che il gioco esce il 6 di giugno con la possibilità anche di un accesso anticipato se si paga ancora di più di 3 giorni se non ricordo male ma aggiungo una cosa attenzione lo dico già in anticipo sarà inevitabilmente il gioco capace di monopolizzare l'attenzione di tutti il prossimo giugno di diventare un mezzo fenomeno esattamente come fece un anno e qualcosa fa Elden Ring cioè non si parlerà d'altro come è successo anche un po' recentemente a Hogwarts Legacy però voglio dire questo non vi sentite in obbligo di entrare all'interno di questo mondo e di farvi trascinare un po' a bordo del carrozzone perché se da una parte secondo me è un episodio molto immediato e molto inclusivo verso un pubblico nuovo che palesemente è uno dei target di Activision Blizzard in questo caso dall'altro secondo me ci può stare anche che genuinamente vi annoi e non vi piaccia nel senso che faccio un esempio proprio su tutti anche a livello proprio di gameplay il fatto che sia un gioco ovviamente con tanti anni sulle spalle e che per esempio abbia un'impostazione che lo fa sembrare agli occhi di un giocatore moderno un twistic shooter ma non è un twistic shooter nel senso che comunque non puoi spostarti da una parte e mirare dall'altra cioè il personaggio spara, agisce eccetera solo frontalmente lo rende, o anche la schivata che comunque c'è ma ha un tempo di cooldown lo rende unico e però secondo me non necessariamente digeribile a un pubblico che non ha mai giocato di altro sì sì anche perché non è del tutto action esatto cioè è proprio molto più focalizzato sulla matematica che ci sta sotto e è da capire questa cosa perché secondo me invece nei trailer, nelle immagini, nelle cose uno si immagina, scusate la ripetizione che possa essere un pochino più dinamico un pochino più approcciabile un pochino più anche arcade tra virgolette di quello che in realtà secondo me è con questo non sto incentivando a non provarlo anzi perché secondo me tanti ci finiranno legittimamente sotto però a dire che è un gioco forse per certi versi meno moderno di quello che uno si immagina e quindi che ci sta possa invece non piacere nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece raccontarvi un po' del Pax East alla fine ovvero di questa fiera che si è tenuta a Boston una delle più famose insieme ovviamente alle 3, alla Gamescom forse non una delle più rilevanti a livello giornalistico sicuramente no a livello giornalistico però a livello di pubblico molto esatto c'è sempre tanta affluenza e alla fine succede che anche durante il Pax possano arrivare insomma delle novità ne cito una che insomma in passato aveva fatto scalpore Hearthstone fu presentato proprio in quel contesto una scelta molto molto particolare di solito non arrivano novità così rilevanti invece stavolta a qualche sorpresa il Pax ce l'ha riservata intanto è arrivata una lunga lunghissima presentazione di Final Fantasy XVI di cui magari parliamo domani anche molto sorprendente proprio per come era strutturata e visto il palcoscenico con addirittura delle sequenze di gameplay giocate lì in diretta oggi invece però vogliamo concentrarci su un'altra sfumatura ovvero raccontarvi di come si è ritornato proprio sotto le luci dei riflettori l'Unreal Engine come motore e come motore capace probabilmente di monopolizzare l'attenzione di certi sviluppatori di oggi e del futuro e questo guizzo l'ha avuto attraverso un paio di sequenze filmate che si sono dedicate a Lords of the Fallen e poi soprattutto a Hellblade sì io aggiungo una cosina secondo me guarda il modo in cui l'hanno voluto un po' presentare è come una specie di motore di situazioni di possibilità e anche un po' di emozioni nel senso che soprattutto nel panel che hanno dedicato a Hellblade 2 in realtà più che Hellblade 2 al motore stesso e alle possibilità che offre utilizzando Melina Jurgens di Ninja Theory e Hellblade 2 come punto di partenza lei è l'attrice che ha fatto il motion capture di Senua in realtà tra l'altro originariamente è una degli sviluppatori del primo Hellblade che è proprio diventata Senua in tutto e per tutto e anche un po' portavoce di questo motion capture diciamo di nuova generazione ebbene si è visto direttamente sul palco qualcosa di incredibile trovate anche il video su internet potrebbe valer la pena recuperarlo in una decina di minuti ma dall'inizio alla fine fanno una presentazione di quelle che sono le possibilità dell'engine stesso in particolare ritornando a parlare di quel Meta Human Creator che è un tool che è stato diffuso già tempo fa che dà la possibilità di creare questi modelli 3D è un editor di personaggi incredibilmente realistici che poi quello che si è scoperto appunto oggi possono essere direttamente animati con una tecnologia che hanno presentato lei era sul palco con un semplicissimo iPhone si è messa a recitare sostanzialmente un breve monologo per spiegare quello che fosse il valore effettivo del motion capture si è registrata con iPhone direttamente sul palco e lì in tempo reale esatto nel giro di 5 minuti forse anche addirittura meno hanno preso le informazioni da quel video le hanno interpolate sostanzialmente a alcuni modelli che avevano già e con questa nuova tecnologia e hanno fatto vedere come davvero nell'arco di pochissimo si sia passati da lei che diceva delle cose davanti a una telecamera a un modello 3D con il suo viso che riproduceva in maniera sorprendentemente accurata le sue fattezze i micromovimenti degli occhi della bocca eccetera eccetera in maniera davvero impressionante sì ovviamente c'era qualche elemento insomma un pochino ruvido ma certo un po' di interfezioni però è chiaro è stato fatto in tre minuti esatto la roba che si mettono tre settimane esatto figura di che cosa può succedere quando invece insomma un team ci lavora nelle tempistiche insomma più simili a quelle di produzione di un videogame fra l'altro sì secondo me è impressionante diciamo sia questa rapidità e questa malleabilità di questo tool che è uno dei dei tool a disposizione nella Real Engine anche perché fra è giusto parlare di malleabilità nel senso che lei ha applicato la sua recitazione prima al modello personale suo poi ad altri personaggi e poi addirittura uno cartoon risultando comunque sempre molto convincente però hanno fatto vedere anche quello che può succedere invece quando un team lavora concretamente ad una cosa del genere c'era una sequenza una cutscene una sorta di cutscene molto molto rapida legata brandizzata Hellblade 2 non so se arriverà nel gioco finale non è assolutamente detto che sembrava più uno showcase però ecco lì la qualità è stata davvero incredibile se già i volti di MetaHuman ci avevano lasciato a bocca aperta ecco se quella deve essere la qualità media delle cutscene che si possono ottenere con Unreal 5 ripeto cutscene quindi scene di intermezzo non certo momenti in game però ecco resta una cosa veramente abbastanza epocale la qualità della recitazione le sfumature quest'illuminazione che c'era un'illuminazione senza senso le pupille si intravedevano delle fiamme era una cosa davvero davvero incredibile forse un pochino più concreto ma al tempo stesso comunque davvero degno di nota quel che si è intravisto di The Lords of the Fallen che è un seguito barra reboot del gioco originale sviluppato da Deck 13 che tornerà credo l'anno prossimo sulle scene si è visto in maniera un po' più concreta dopo un trailer di presentazione visto un annetto fa e devo dire che seppur non mostrando gameplay vero e proprio ma comunque degli spezzoni di gioco ed era focalizzata di nuovo questa presentazione sulla tecnologia sulla qualità dei dettagli sulle luci in tempo reale eccetera eccetera beh a schermo si sono intraviste delle cose molto molto di nota anche dal punto di vista artistico si si è focalizzato il trailer prima sul character editor poi sulle texture invece dei modelli poligonali quindi insomma facendo vedere i dettagli dei vestiti dei loadout insomma delle armi che erano impressionanti e poi alla fine c'è stato diciamo un focus invece sulle architetture molto barocche molto ricche con qualche sfumatura anche un po' gotica esatto del gioco che sono state illuminate poi da dei punti di luce mobili proprio per far vedere quanto possa cambiare anche l'atmosfera dinamicamente in tempo reale insomma al passaggio anche magari di una fonte di luce temporanea sì tra l'altro in un gioco che prospetta di avere due dimensioni sovrapposte l'una all'altra e quindi un'idea un po' di realtà e velo del reale da squarciare alla Bloodborne che grazie al supporto tecnologico di Real Engine 5 potrebbe avere ancora una marcia in più sembra un titolo di quali da tenere assolutamente d'occhio sì non abbiamo visto neanche un bricio di gameplay con questo però grandi aspettative potenziali promesse però anche tanta calma perché c'è molto da dimostrare secondo me anche in questo senso l'originale che era sviluppato da persone diverse eccetera eccetera però forse un po' deluso rispetto a quelle che erano le aspettative pur non essendo male aspettiamo e vediamo certo è che diciamo che videogiochi del futuro almeno dal punto di vista tecnologico poi delle idee va sempre visto sembrano avere a disposizione degli strumenti è un bel alleato perché insomma se un engine permette di facilitare e velocizzare così tanto insomma il processo produttivo dal punto di vista tecnico magari ci potrebbe essere anche più tempo da dedicare anche alla fase ludica e creativa che speriamo in questo caso di Lords of the Fallen possa riuscire meglio del titolo precedente grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong noi torniamo domani magari per raccontarvi qualcosa in più di Final Fantasy XVI e per tenervi aggiornati sulle ultime novità ciao grazie a tutti